Eccola la pavanda romana, una bassa danza di corte che si diffuse agli inizi del XVI secolo in Europa. Era caratterizzata da un incedere lento, solenne e maestoso. Le coppie entrano in corteo e percorrono la sala lentamente, quasi favoreggiandosi. Ecco perché la pavana era la danza preferita dalla novità, che poteva farsi ammirare ostentando i ricchi e pesanti abiti e affermando così il proprio prestigio sociale nella corte. Eccola la pavanda, che poteva farsi ammirare ostentando i ricchi e pesanti abiti. La pavanda, che poteva farsi ammirare ostentando i ricchi e pesanti abiti. La pavanda, che poteva farsi ammirare ostentando i ricchi e pesanti abiti. Grazie. 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 Grazie.